Giovanni Brusca torna libero dopo 25 anni per fine pena. È il boss mafioso fedelissimo di dottor Rina, poi diventato collaboratore di giustizia. Lui stesso ha messo il suo ruolo nella strage di Capaci e nell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo. Come scrive l'Espresso, Brusca ha lasciato ieri il penitenziario di Re Bibbia, con 45 giorni di anticipo rispetto alla scadenza della condanna. Adesso è un uomo libero, sottoposto a controlli e protezione. Tecnicamente però resta sottoposto a 4 anni di libertà vigilata. Così ha deciso la Corte d'Appello di Milano, l'ultima a pronunziarsi sul conto del condannato in relazione al processo più recente. Umanamente è una notizia che mi addolora, ma questa è la legge, una legge che peraltro ha voluto mio fratello e quindi va rispettata. Mi auguro solo, commenta Maria Falcone, che magistratura e le forze dell'ordine vigilino con estrema attenzione in modo da scongiurare il pericolo che torni a delinquere, visto che stiamo parlando di un soggetto che ha avuto un percorso di collaborazione con la giustizia assai tortuoso. La stessa magistratura in più occasioni ha spesso dubbi sulla completezza delle sue rivelazioni, soprattutto quelle relative al patrimonio, che probabilmente non è stato tutto confiscato. Non è più il tempo di mezza verità e sarebbe un insulto a Giovanni, Francesca, Vito, Antonio e Rocco, che un uomo che si è macchiato di crimini orribili possa tornare libero e godere di ricchezze sporche di sangue. Che sbrusca e scontata la sua pena venga scarcerato è un fatto normale, è la legge. Quello che non è normale invece è che dopo 30 anni la verità sulle stragi sia ancora tenuta ostaggio di irresigenze, viltà e menzogne. L'ho detto il presidente dell'antimafia a Lars, Claudio Favara e News. Brusca avrebbe potuto dire molto di più di quanto ha detto, avrebbe potuto contribuire molto di più per arrivare alla verità di quella stagione, di certo ora non lo farà più. Questa scarcerazione, dichiara il sindaco di Palermo, Luca Orlando, richiama ancora una volta le sofferenze delle vittime e dei loro familiari e riaccende ancora più forte l'indignazione per le terribili violenze commesse da Giovanni Brusca. In questo momento si conferma quanto bisogno vi sia ancora di verità e giustizia nel nostro paese.